L'export agroalimentare italiano negli Emirati Arabi ha fatto segnare una crescita del 46% nel 2022, con un giro d'affari che sfiora i 400 milioni. È quanto è emerso a Dubai durante Gulf Food 2023, manifestazione fieristica dedicata al settore alimentare della regione del Golfo e del Medio Oriente. L'Agenzia ICE ha organizzato presso la fiera l'Italian Food Lab, un'area che ospita masterclass sull'eccellenza del Made in Italy e cooking show con chef stellati. L'obiettivo è facilitare i contatti commerciali con gli operatori locali e incrementare le opportunità di business per le aziende italiane. Per il presidente dell'Agenzia ICE, Matteo Zoppas, Gulf Food con i suoi 5.000 espositori è diventato un evento di rilievo globale e un'occasione per confermare la centralità del ruolo dell'Italia per il settore agroalimentare. Con la seconda posizione per numero di espositori, circa 200, l'Italia gioca un ruolo importante e gli impenditori confermano una grande vocazione all'export.